Musica Siamo qui in diretta ad Omicidilandia per parlarvi in merito al famigerato omicidio commesso questa mattina. La sorella della vittima ha deciso di rilasciarci un'intervista. Buonasera. Veramente non ho deciso di rilasciarci. Signora, mi dica ma secondo lei chi ha ucciso sua sorella? No, no, non lo so, non lo so. Quindi lei mi sta dicendo che già pensa che ci sia un colpevole già l'ha identificato? No, no, non lo so, non lo so. Potrebbe darsi che sia stato suo padre, cosa ne pensa? Non penso, non lo so. Ah, quindi lei sta dicendo che pensa che è stato suo padre a uccidere sua sorella? No, no, non lo so, non lo so. Sconvolgente! La signora ha appena dichiarato che il padre ha ucciso sua sorella! Non è vero, se ne vada! Ma quindi lei ha visto il cadavere? Sua sorella in che condizioniere aveva la testa? Non ha visto niente, se ne vada! Non ci sono più gli umicidi di una volta. Passiamo adesso alla prossima notizia. Dipendenti costretti a mangiare zucca amare davanti ai loro colleghi, se non raggiungono gli obiettivi di vendita. La zucca amara, diffusa in Asia e in Africa, ha un sapore molto amaro, come il nome lascia facilmente intendere, ed in Italia viene utilizzata per preparare la famosissima parmigiana di melenzane. Dopo l'introduzione della nuova punizione, molti dipendenti si sono stranamente licenziati. A questo ortaggio è stata dedicata la nuova hit dell'estate 2016, la zucchina birichina. Ma sì, mi dicono dalla regia che ascoltiamo la canzone, la zucchina birichina. La zucchina birichina canta il rap, la zucchina birichina canta il rap, la zucchina birichina, la zucchina birichina, la zucchina birichina canta il rap. Passiamo adesso ad un'altra notizia. Volto di una bellissima fotomodella americana rovinato da un grosso fungo. Spuntatole sul naso. La donna sarà costretta a non sfilare per almeno 100 anni. Ma valutiamo un aspetto positivo. La fotomodella potrà utilizzare i residui del fungo per i suoi risotti. Passiamo adesso ad una notizia sui ragazzi del volo. Il giovane Gianluca Ginoble sposerà la tap del tap Jessica Sanmeri. Il bellissimo Pierubarone convolerà nozze con Gracie Corona, altro membro del duo comico Messines. E' che io adoro i ragazzi del volo. Scusate, le nozze si sembreranno molto presto a Messina. Scusate, le nozze si sembreranno molto presto a Mardi Fasca. Scusate, le nozze si sembreranno molto presto a Mardi Fasca. Scusate, le nozze.